Ciao a tutti e a tutte e benvenuti, siamo a Più Libri Più Liberi e siamo con Tibor Fischer e parleremo con lui del suo ultimo libro uscito per Marcos i Marcos, Come governare il mondo e lui è l'autore della gang del pensiero che ha avuto grandissimo successo anche qua in Italia sempre pubblicata da Marcos i Marcos e invece in questo romanzo il protagonista Baxter Stone è un regista di documentari e ritroviamo anche qui la grandissima ironia e anche molto sfrontata di Tibor Fischer nell'affrontare la scrittura. So Tibor, dico prima in italiano e poi dopo la dico in inglese, ok? Allora, la prima domanda che voglio fare, il protagonista di questo libro dice in continuazione che odia la storia e anzi che la storia ce l'ha messa nel culo, cito testualmente. Voglio chiedere a Tibor Fischer se secondo lui questa idea della storia monumentale, iconica e sempre così fondamentale è effettivamente qualcosa che imprigiona, blocca il futuro delle persone. Beh, sì e no, la novela ha un numero di temi, la storia è una di loro, e la storia è una di loro e la storia è di fatto che finalmente se c'è un grande cambiamento in la storia, come un individuo non c'è nulla cosa che puoi fare con la storia, come Baxter ho lavorato in televisione per molti anni e quando ho lavorato in televisione era ancora un buon lavoro, non si è diventato riuscito, ma tu eri benvenuti, tu avevi interessante lavoro, c'è un bel beneficio, c'è un buon lavoro e ho avuto freddo, tu metti interessante persone, e cosa ha cambiato è, per un numero di ragioni, chiefly per l'internet, che nessuno con un iPhone può fare una documentazione di documentazione e a volte può fare un buon lavoro molto bene, usando un iPhone. Quindi è difficile per le persone che vogliono fare più professioni, più intelligenti, più demandi programi, perché bisognavi di fare questo, come giornalismo in general è in trouble, perché giornalismo needs money, e è un fatto che quando la storia cambia, come un individuo, non si può fare molto a questo, come in Germania in the 1930s, come un individuo, tutto ciò che puoi fare è riuscire. Allora, a un certo punto Baxter dice anche che le uniche persone che amano vivere a Londra sono quelle che non sono di Londra, e anzi lui da cittadino di Londra, nato e cresciuto a Londra, se ne vorrebbe andare. Ecco, ho trovato molto simile il sentimento che a volte proviamo noi italiani, ma anche e soprattutto noi romani, e vorrei chiedergli in quale aspetti, secondo lui, gli abitanti delle grandi città europee sono simili, per esempio appunto Londra e Roma. Sì, credo che città è una grande città. Londra è un esempio extremi, perché è diventato un porto libero. Quando io ero, credo, è vero dire che era ancora un paese inglese in le 70s, e ora non è non. Secondo la città, 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 la città di Nord-Irlanda, è una minoria, quindi è come la model del New York, che praticamente tutti sono lontano lontano. E uno dei problemi con Londra è che l'infrastructure non può capire con il numero di persone che sono lontano lontano. Quindi, lo che io sempre dicono, è che bisogna essere 19 o molto riche per davvero giocare lontano, perché se sei raggiunto e non puoi dormire su un luogo o sopa, puoi avere un buon tempo in Londra. E, simile, se sei molto bene, è great, ma è cambiato. I miroi 20 anni fa, io conosco persone che hanno lasciato lontano perché vogliono essere lontano lontano, hanno un lavoro in un'altra parte, per esempio. Ma è l'ultima 10 anni, probabilmente, io conosco persone, professionisti, lawyers, giornalisti e so on, le persone che hanno lasciato lontano perché non possono vivere lontano lontano lontano. Quindi, è hard work. E dipende da se sei disposto a mettere con questo per i benefici che una grande città come Londra ha o non. Sì, sì. Leggendo questo libro, io mi sono sentita molto libera, libera in quello che penso e in quello che dico, perché in effetti Baxter Stone è così, è molto libero, sembra non avere nessun filtro fra quello che c'è nella sua mente e quello che poi dice o fa. Vorrei chiedere a Tibor Fisher se si sente libero come si sente Baxter a livello di pensiero e quali aspetti ha in comune con il suo personaggio. Well, I mean, inevitably, many of your characters have elements of your own personality. I mean, like Baxter, you know, I did grow up in London, like Baxter I worked in television. I suppose, maybe, you know, Baxter, I think, has a sort of sense of humor. He tries not to take things too personally, although in the end he does. So, I'd say maybe, maybe 50% of Baxter is me. Ok. E c'è un'altra somiglianza a cui ho pensato mentre leggevo il libro, che era con una bellissima serie che si chiama Afterlife, che è una serie appunto inglese, con quel tipo di umorismo molto simile, tra l'altro il protagonista è un giornalista, quindi insomma c'è qualcosa di simile in questo. e vorrei chiedere a Tibor Fisher se ha delle sue ispirazioni, sia in campo letterario, ma anche in campo di altri media, come serie o film, che lo aiutano, lo ispirano nella sua scrittura. As a writer, you're obviously affected by everything that goes on around you, and I suppose, whether I like it or not, I must to some extent be affected by the films and the TV things I see, but not consciously. I mean, the whole point of writing a novel is that you're doing, I mean, there aren't many benefits to being a writer, but one of them is that, you know, it's you who decides the text, it's you who shapes your work. After that, it's the market, it's the public who decide whether they really like your novel or not. But the whole point of being a writer really is that it's your outlook, it's your vision, it's a, as I say, to some extent a reflection of your own experiences, although the great thing about fiction is you can just make things up and exaggerate things. In un'intervista lui ha detto che i progetti, cioè progettare è facile, mentre scrivere è la parte difficile. Qual è secondo lui l'aspetto più difficile dello scrivere? Well, this is the thing, I mean, a question you often get asked at book festivals, when you do events from the public, well, there are two questions you get asked, I think if any writer gets asked is, one, where do you get your ideas from? And that tends to come from members of the public who've never written anything or really want to write anything. And the other one is, how do you write? Which is the question you're asked by people who want to be writers and are hoping that there's some sort of tip, or that, you know, if you align your desk with the North or eat bran flakes for breakfast, suddenly you'll become a terrific novelist. And the ideas are easy. I mean, you know, you can spend, you know, in an afternoon I can come up with six ideas for books or a trilogy of books or whatever. I mean, it's actually the hard part is sitting down, doing the typing, doing the revision, because I think all writers will tell you that writing is really about going through the thing again and again and again, which is rather tedious, which is why most people don't write well, because they're not prepared to go through that rather dreary process of revision. I think Hemingway was supposed to have said something like all first drafts are shit. Now, I'm not sure that's necessarily true, but it's certainly true that the fifth or sixth or seventh draft is much better than the first draft. And that's why being a writer does have a sort of... It's a bit like going to the office, because, you know, you have to do stuff that isn't terribly exciting, but that's how you improve the product. L'ultima domanda riguarda, come sempre, letture metropolitane, perché, appunto, noi ci occupiamo di lettura in viaggio, in movimento. Vorrei chiedere a Tibor Fischer se ha dei libri che, secondo lui, sono particolarmente adatti a questo tipo di lettura. Well, I mean, any novel... And the thing about literature, which literature departments at universities like to pretend isn't true, is that finally it's very subjective. Yes. There is no such thing as a novel that everyone likes. I mean, do you want a recommendation? Yeah, 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 which is yours. Well, I was... Because I'm teaching a literature course now in Budapest, so I reread Apollaeus' The Golden Ass, or sometimes it's called Metamorphosis, I think. And, you know, this was written some 2,000 years ago or so. It's still very, very funny. It's one of the earliest novels that's still, you know, extant in the whole text. And if people haven't read it, I'd suggest they do, because it's very funny, it's very entertaining, and, you know, it's not too long. Okay. Grazie mille. Thank you so much, Tibor Fisher, Come governare il mondo, pubblicato da Marcos e i Marcos. Grazie. Thank you. Thank you so much. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti